Non ho approfittato questa mattina, come c'è stato in realtà, le persone grandi, mi saprei che l'Uniteroma, l'Italia, sono un po' più poche per queste persone. Con questo, perché la nostra realtà è di accogliere, si impegnasse collettivamente per aiutare queste persone. Siamo in molti paesi del futuro. Non solo l'esperienza di un'inferenza di un'inferenza, quindi si impegnate che, la località che si impegnava semua persone. I amamenti proprio un'inferenza di un'inferenza, dove non ci confermò ciò che accoglie. La parte del libro è un'inferenza di un'inferenza di un'inferenza. La parte del libro è un'inferenza. Sono un'inferenza di questo. Non le farò come se è un'inferenza di un'inferenza. Alla fine, dopo averla in un' researchinge. Grazie.